Abbiamo imparato a dare valore a ogni seme per quello che ha da offrire. Così come un piccolo seme può diventare un grande albero con l'acqua, il sole e la terra, anche noi possiamo cambiare le nostre comunità e i nostri paesi con la speranza, l'impegno e la cura. Un seme di pace e di speranza, a piantare semi di girasoli, che poi appunto diventeranno delle bellissime piante, su terra ucraina sono state due studentesse che arrivano dalla Russia e un cittadino che è originario dell'Ucraina, un seme di speranza che viene piantato a Rondine, cittadella della pace. È un seme di pace e di speranza sicuramente che si lascia in questo momento a Rondine ma che viene da lontano perché la terra è stata portata proprio dall'Ucraina e i semi sono i semi rappresentativi della pianta della speranza del girasole e in certo modo anche rappresentativo dell'Ucraina stessa. Credo che farlo qui a Rondine sia il valore aggiunto a questa piccola cerimonia. La terra arriva dalla città di Sambir dove alcune settimane fa una delegazione aretina ha fatto arrivare tre pulmini carichi di medicinali e beni di prima necessità ed è stata donata un'ambulanza. Oggi possiamo dire missione compiuta, quindi è stata una grande emozione farla fare da ragazzi che appartengono a nazionalità diverse, a paesi diversi purtroppo in conflitto fra di loro. Oggi voi ospitate due ragazze che arrivano proprio dalla Russia. Sì, stanno per arrivare anche i giovani ucraini, nuovi, che si uniranno con i fratelli russi che la storia sta dividendo, ma loro sono come i semi e come l'erba del maggio, riparte sempre, anche nel catrame. Testimonia che insieme possiamo fare certamente molto. Prima di tutto tenere viva la speranza nei giovani, che la guerra in qualche modo deruba sempre.